I Soghi Bottom Boys li hanno succhiati con latte, i vecchi pezzi tradizionali. Anzi, noi ne andiamo matti, vero ragazzi? Esatto. Esatto. Sentite? Veramente non siamo negri negri. Tranne il nostro accompagnatore. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info